Manu e Pugiali testing mototrainer con la sua vecchia aprilia notare il movimento da campione molto bene ecco, comunque la prende bene, però è brava è forte ha già capito freno posteriore arrabbiato a 2 dammi vantaggio uno split molto buono questo è già un intermedio 1.15 molto buono guarda che staccata affatto via, dai che questa abbiamo detto 1.2 buono ottimo, guarda il cambio bellissimo vai, vai, vai l'ultima curva non molla, dai tela dentro, tela dentro tela dentro che sia un intermedio buono gomito a terra bello, bello com'è? sono sudato è quello che funziona è quello che funziona bello è quello che funziona per il come Grazie a tutti